buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 28 agosto 2024 e vediamo subito che si festeggia oggi un gigante della chiesa cattolica sant'agostino eccolo qua nella grafica uno dei santi fondatori possiamo dire della dottrina fu un dottore della chiesa e nella sua vita ebbe un percorso non facile per quanto riguarda trovare la fede ebbene da manicheo passò a cattolico da professore di retorica a vescovo da peccatore a santo la vita di agostino è un esempio del cammino verso la fede è considerato appunto un dottore della chiesa scrisse 232 opere con futole eresie in modo particolare fu un pilastro della chiesa morì il 28 agosto del 430 e le sue reliquie riposano nella chiesa di san pietro in celdoro a pavia pensate ancora oggi abbiamo i resti del corpo di sant'agostino che visse nel tra il quarto e quinto secolo a roma a milano ma ovviamente era originario della dell'africa dell'africa settentrionale era nato a tagaste dove appunto abbiamo collocato anche sua mamma ieri monica di cui si era festeggiata la la nascita insomma la la festa bene ci ho detto passiamo alle previsioni del tempo ancora ancora tempo prevalentemente asciutto salvo sull'appennino con piogge e locali temporali altrove c'è una nuvolosità che potrebbe aumentare nel corso della giornata in modo particolare nel pomeriggio sulle coste venti spireranno da nord nell'interno da ovest e sud ovest le temperature si mantengono ancora alte la minima è stata di 21 gradi la massima di 30 il sole è sorto alle 6 e 25 tramonterà alle 19 e 52 questo è per quanto riguarda l'andamento della giornata di oggi ma noi intanto guardiamo le notizie che pubblicano i giornali e ovviamente sono notizie e si sono verificate nella giornata di ieri apriamo subito il resto del carlino vediamo la prima pagina che parla di turismo ti parla di turismo perché ieri le associazioni di categoria che si riconoscono in modo particolare nella conf commercio hanno convocato una conferenza stampa in una location particolare ebbene a torrette sorge un nuovo vecchio albergo completamente ristrutturato è veramente molto bello frutto di un ingente investimento da parte di una società di città di castello che ha anche altre strutture ricettive ebbene all'interno di questa di questo albergo nuovissimo molto molto bello dobbiamo dire anche che ormai costituisce un po l'emblema della situazione turistica di torrette è stata tenuta una conferenza stampa con la presenza dell'assessore al turismo alberto santorelli turismo primo tempo ospiti italiani in calo si sono così rivelati i dati dei primi sei mesi di quest'anno quindi da gennaio a giugno ovviamente ancora non si hanno i dati dei mesi di luglio ed agosto sono i dati dell'alta stagione però insomma l'andamento si è capito quello che è stato ebbene sono aumentate le presenze ma non gli arrivi gli arrivi sono diminuiti e questo è un dato non positivo ha detto l'assessore al turismo santorelli in quanto dipende da appunto dalla promozione che è stata fatta e dalle iniziative di attrazione che fanno può vantare bisogna lavorare ancora di più sulle iniziative di attrazione sui grandi eventi in modo particolare che non si accavallino e in modo particolare che vengono distribuiti in maniera equa su tutto il territorio del comune vediamo anche qualche dato il turismo straniero è aumentato del 4,67 per cento per quanto riguarda gli arrivi 431 persone in più e il 54,87 per cento delle presenze pari a 17.703 persone mentre calano però gli arrivi degli italiani del 2,85 per cento meno 1.190 e aumentano del 15,39 per cento le presenze più 19.615 quindi meno italiani che scelgono fanno ma chi lo fa rimane per più giorni ma questo non compensa il dato economico che si viene ad evidenziare. Il dato riguarda i primi sei mesi dell'anno come abbiamo detto e l'assessore al turismo ha rivelato un po' quello che è allo studio per cercare di modificare il trend di questo anno turistico. Ebbene si dovrà rivedere il piano delle strutture ricettive si dovranno rivedere anche e si dovrà anche rivedere il programma dei grandi eventi come abbiamo detto e tra le richieste che hanno fatto invece gli operatori erano presenti diversi operatori c'era Luciano Cecchini responsabile degli albergatori c'era la presidente della Commercio Fanese Barbara Marcolini c'era i rappresentanti diciamo degli campeggiatori e poi anche i rappresentanti dei concessionari di spiaggia. Ebbene la proposta principale è quella di realizzare al più presto questo grande palazzo dello sport di non meno di 3.000 persone in cui si possono organizzare non soltanto i grandi eventi di carattere sportivo ma anche concerti e tutte le altre iniziative d'attrazione che possono radunare tante tante persone e richiamare persone a Fano. Pensate quello che esercita a Pesaro la grande astronave così come viene definita. Ma c'è anche un dato turistico che fa riflettere. Lo vediamo qui a fondo pagina del resto del Carlino. In visita i musei ma attenti potrebbero essere chiusi e c'è un grande scordinamento diciamo così tra le attrattive museali della città di Fano. Non è possibile entrare al museo e alla pinacoteca del palazzo malatestiano aperti da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 18 e 30 alle 22. L'orario pomeridiano rimane lo stesso per la domenica e i festivi ma cambia la mattina 10 e 30 12 e 30. Il lunedì non si visita neppure la mostra della sala Morganti quella dedicata a Pietro Perugino aperta da martedì a domenica dalle 18 e 30 alle 22. mostra che è stata prorogata fino al 15 di settembre. Il lunedì si entra invece alla Memo dove ci sono anche gli scavi archeologici ma questi sono visibili solo nel pomeriggio dalle 15 alle 20. Così anche il martedì e il venerdì. Mercoledì sempre alla Memo orario spezzato. Insomma sono diversi gli orari è difficile combinare se uno arriva a un turista arriva a Fano e vorrebbe visitare insomma in una mattinata di un giorno feriale qualsiasi i musei della città beh qualcuno lo trova aperto quell'altro lo trova chiuso quell'altro lo trova aperto nel pomeriggio. Insomma c'è uno scordinamento tale che è difficile poter avere una così una visione completa di tutta l'offerta turistica che Fano ha e merita di essere valorizzata. I musei potrebbero essere chiusi e questo insomma è un po' la eccolo qua un po' il succo di questo articolo. Veniamo alle scuole e siamo siamo alla fine di agosto insomma l'inizio dell'anno scolastico non è lontano il comune ha lavorato alacremente per tutta l'estate per far sì che le scuole di sua competenza vengano così predisposte nel modo opportuno per ospitare gli studenti scuole e manutenzioni c'è un bel restyling che è stato fatto alla De Cioraggi la scuola elementare nei pressi di Ponte Metauro sono in tutto 47 gli istituti di competenza comunale che sono stati oggetto di attenzione degli assessori Manghernino e Ilari un assessore ai servizi educativi l'altro assessore ai lavori pubblici ripristino delle rampe per disabili alla De Cioraggi impermeabilizzazione dei solai tinteggiatura delle aule pulizia delle grondaie otturate dalla vegetazione riparazione degli infissi deteriorati sono questi un po' gli interventi che si fanno sia a De Cioraggi ma che sono stati fatti anche in diverse altre scuole di carattere comunale. Insomma si cerca soprattutto di eliminare le infiltrazioni d'acqua di riparare gli infissi e di predisporre anche un'area esterna che sia sicura e all'altezza del decoro che merita un istituto scolastico. Giusto ospitare l'Alma Juventus Fano? Il problema non è nostro ma del comune di Fano. A parlare così è Augusto Bonaventura il presidente della Fermignanese che ha stipulato un contratto con l'Alma Juventus la squadra di calcio che è stata sfrattata dallo stadio Mancini e ora gioca nel campo di capo sportivo di Fermignano. Ebbene insomma il presidente Bonaventura parla con un certo tono piuttosto sostenuto. Per esempio il giornalista gli chiede a quanto ammonta l'accordo economico con il presidente dell'Alma? Ebbene Bonaventura risponde secco e non lo vuole tanto decantare la parte economica non è un problema vostro ha detto è un problema mio quindi non lo dico può capitare di avere problemi e ritrovarsi senza un terreno di gioco a disposizione domenica scorsa abbiamo giocato un amichevole è stata una bella giornata c'erano 200 persone di Fano e sono i sostenitori che a parte il cambio delle presidenze a parte le vicissitudini che hanno così ammareggiato la fine di questa squadra rimangono fedeli all'Alma. L'Alma che ha una gloriosa tradizione essendo nata mi sembra ai primordi del 1900-1908 mi frulla in testa questa data ma non so se sono sicuro se è vera quindi ha una lunga tradizione di consolidamento per la passione sportiva nella nostra città. Il centrodestra va in tilt abbiamo un altro articolo che riguarda questo problema il centrodestra va in tilt quello di Fermignano non fa assist a Sir Filippi tutta colpa di Feduzzi Feduzzi è il sindaco di Fermignano siamo con il club sportivo affermano appunto i tifosi Fano 80 anni senza nazifascismo ieri si è svolta la cerimonia che ricorda la liberazione di Fano avvenuta il 27 agosto del 1944 sono trascorsi 80 anni è stata una bella cerimonia un corteo nutrito di cittadini e di autorità ha percorso le varie in le varie tappe della città dove si ricordano i caduti della seconda guerra mondiale si è iniziati con la lapide dei partigiani affissa sulla facciata del comune poi nel corridoio dove ci sono altri personaggi poi ancora nella zona dell'ex caserma Montevecchio di fronte alla lapide che ricorda i due bambini uccisi da un soldato nazista che era lì nella caserma Montevecchio e sono temistocle Paolini e Renata Marconi che sono purtroppo morti a causa delle ferite riportate da un colpo di mitra o di fucile insomma era una reazione in consulta di un soldato poi ancora il corteo è andato davanti al monumento dai caduti di tutte le guerre di Viale Buozzi e infine ha posto una corona dall'oro sulla lapide che ricorda l'ingresso dei soldati della divisione Carpazzi erano i soldati polacchi agli ordini del generale Anders Vladislav Anders che sono appunto entrati in città attraverso la breccia di Porta Maggiore una città ovviamente distrutta i campanili in rovina le macerie ancora presenti nelle vie delle cittadine e ancora le ferite riportate dalla paura dai bombardamenti dai danni e insomma veramente una città che doveva risorgere e piano piano gliel'ha fatta insomma però è stato un momento veramente brutta. In questo articolo però c'è anche una polemica una polemica sorta dalle parole del sindaco Luca Servilippi il quale ha parlato di pace di democrazia di libertà e sembra che non abbia menzionato la parola fascisti e questo un po' ha suscitato le reazioni di quei gruppi come LAMI che sono ovviamente antifascisti che combattono chi opprime la libertà e insomma c'è stata una polemica che probabilmente sorge ogni anno in un modo o nell'altro durante queste occasioni e sorta anche in passato. Tenta un furto a Ponte Sasso ed è stato arrestato. I carabinieri di Marotta hanno fermato un 29enne di Fano che lunedì ha cercato di introdursi in una abitazione ebbene ha avuto la sfortuna questo giovane di essere notato dal proprietario di casa che stava uscendo dalla sua abitazione. L'aveva visto insomma aveva un atteggiamento circospetto allora il padrone di casa cosa ha fatto? Ha avuto un ripensamento, ha fatto un po' di strada e poi è tornato e tornato alla sua abitazione e qui ha sorpreso il giovane che si è dato alla fuga che aveva già cominciato ad aprire gli sportelli delle auto, della macchina di proprietà del padrone di casa e anche la porta di ingresso della sua abitazione. C'erano i segni dell'effrazione. L'uomo ha chiamato i tutori dell'ordine i quali hanno rintracciato il 29enne e l'hanno trovato in possesso degli arnesi di scasso. Ieri al tribunale di Pesaro si è svolta la convalida dell'arresto e nei confronti di questo giovane è stato disposto l'obbligo di firma settimanale alla caserma dei carabinieri di Fano. è stato comunque rilasciato. Vediamo ora i cambi che ci sono tenuti nel Consiglio Comunale di Urbino dove alcuni consiglieri hanno dato le dimissioni e sono verificati dei subentri. Dimissioni in Consiglio Comunale entrano Donanno, Vitali e Cioppi. L'avvicendamento era già previsto perché hanno lasciato il posto, capponi, vetri e sirotti. E' stata comunque approvata poi la realizzazione di una nuova sala civica K-Mazzasette tra la chiesetta e il campo di calcio. Si tratta della realizzazione di una nuova sala civica nella frazione Urbinate che sarà edificata in un terreno finora agricolo, quindi occorre una variante, nel cuore del centro abitato tra la chiesetta di San Paterniano e il campetto di calcio. Lunedì l'Assemblea ha adottato definitivamente la variante dopo che questi documenti erano stati visionati e approvati anche dalla provincia. Quindi si è concluso un iter di carattere burocratico. Per Fossombrone 18 nuovi agenti, il carcere diventa ancora più sicuro. E' stato fatto oggetto di visita dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro che è stato accompagnato dal onorevole Baldelli. E' in visita appunto al carcere di Fossombrone 18 nuovi agenti di polizia penitenziaria, 900 mila euro di investimento per 81 nuovi posti di detenzione. E' un futuro questo pressoché definitivo come struttura di sicurezza della struttura di Fossombrone che viene sempre definito come un super carcere dove c'è sicurezza. Ma sono anche iniziative di riabilitazione. Vediamo anche l'ultimo articolo pubblicato per quanto riguarda l'entroterra dal Carlino. Si parla di arte a pietra rubbia. C'è un grido non taciuto l'inno alla vita dello scultore Paolo Soro. L'opere di questo artista che è originario della Sardegna ma è marchigiano da adozione, vengono esposte nel castello che decenni fa ospitò il centro TAM di Arnaldo Pomodoro. Quindi una scuola che ha fatto tanti tanti emoli e tante fonti di ispirazione. Per quanto riguarda Pesaro vediamo la festa dell'unità che si svolge a Baia Flaminia dove ci saranno i due Matteo ospiti dell'iniziativa Matteo e Matteo il ritorno. Ricorderò a Renzi, ha detto l'ex sindaco di Pesaro Matteo Renzi, a Renzi quindi l'altro Matteo, i tanti errori che ha fatto ma lavoriamo sull'alleanza. Dobbiamo ricordare che a suo tempo il sindaco di Pesaro era uno dei maggiori sostenitori di Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio. Poi sono successo le dimissioni, vi ricordate il referendum che non ha secondato le proposte del presidente del Consiglio e lui è passato insomma poi all'opposizione. Appuntamento alla festa delle unità a Baia Flaminia con inizio alle ore 20 e 30. Il logo del Paglio dei Braceri è Di Santini, marchio registrato a suo nome quando era un po' il creativo di Ricci a cui il sindaco aveva delegato appunto la realizzazione di questa impresa che è cresciuta tantissimo e che ha avuto un seme che è germogliato nel cuore di tutti i pesaresi. Lo ha fatto nel 2022, in quel momento era dipendente del Comune, da allora è lui che detta le regole del gioco. Poi passiamo un'altra notizia, ecco purtroppo un lutto, muore a 50 anni senza un perché, i medici ipotizzano un virus o un batterio sconosciuto. Si tratta di Thomas Salvi, un artigiano di Montecchio, è morto appunto per un presunto virus sconosciuto, quattro mesi di agonia, è iniziato tutto con sudore, tosse e febbre e quindi non si è capito qual è la causa di questo decesso. Si attende per conoscerlo almeno l'autopsia. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. Vediamo qui la pagina di Fano dove anche il Corriere apre con il turismo, turismo in calo gli arrivi ma sono più le presenze, introdurremo innovazioni, ha detto l'assessore Santorelli che promette un nuovo piano delle strutture ricettive e la riprogrammazione degli eventi. E qui in questa fotografia vediamo un po' tutti coloro che hanno parlato durante questa conferenza stampa, sono esponenti della Confcommercio, abbiamo anche esponenti che ricordano, che riportano le istanze dei campeggiatori, dei concessionari di spiaggia, Mauro Pandolini, abbiamo Amedeo Tarsi e abbiamo anche Borgogeli, Gabriele Borgogeli e qua al centro vediamo la proprietaria di questo nuovo hotel, rinnovato hotel Playa che spicca nel panorama turistico di Torrette. Liberazione, Ser Filippi, difendiamo la memoria, ottantesimo anniversario, presenti anche i figuranti dell'esercito degli Aleati. Sì perché nell'ultima tappa, quella che si è concluso l'itinerario, il percorso delle celebrazioni al Pincio, nella frattura delle mura a Porta Maggiore, ad affiggere la corona dall'oro al muro del bastione del Nuti, sono stati alcune persone in divisa, ma le divise di allora, quelle del 1944 indossate dagli uomini dell'esercito del generale Sanders, della brigata appunto che ha liberato Fano. Un esame dal punto di vista sociologico del terzo settore, appare in questo articolo a firma di Osvaldo Scatassi, è un esame fatto dal sociologo Maurizio Tommassini che stima il coinvolgimento del terzo settore appunto nell'economia, nella socialità, diciamo meglio di Fano, di circa 8 mila persone. Terzo settore, iscritti a Fano, 159 soggetti, sono associazioni di volontariato che operano in diversi campi e sono un notevole sussidio nei confronti delle istituzioni, in modo particolare dell'amministrazione comunale, un bacino enorme di energie e di capacità, sì perché ci sono anche molte professionalità. Vediamo anche come il Corriere Adriatico parli della visita al carcere di Fossombrone, del deputato Antonio Baldelli e del sottosegretario Andrea Del Mastro, ci sono anche novità per quanto riguarda i finanziamenti dati al carcere e poi ancora tenta di svaleggiare una casa restato dai carabinieri e appunto quel 29enne di cui ho parlato poco prima. Ancora a Senigallia, Sant'Agostino, bene abbiamo visto come oggi la festa di Sant'Agostino, ma a Senigallia Sant'Agostino inizia, consacra anche l'inizio della fiera, della fiera. Fiera campionaria che è iniziata lo scorso weekend con il food, ma che ora si consolida con tutte le bancarelle e sono in 55, pensate in lista di attesa per avere un posto e partecipare alla tradizionale fiera di Sant'Agostino. Siamo in conclusione, un'ultima notizia che riguarda Pesaro, l'abbiamo appunto in apertura. Asili, obiettivo rilancio, strutture riqualificate e più poste per i bambini. A due settimane dall'inizio del nuovo anno il Comune si concentra sulla fascia 0-3 anni, che è poi la fascia più problematica. Abbiamo visto come i posti sono insufficienti per ospitare e per soddisfare, diciamo meglio, tutte le richieste da parte dei genitori. Era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani, sempre alle 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci.